Al momento il 5G è l'argomento scottante e di certo nessuno può ignorarlo. Questo canale mette in luce gli attacchi di terrore ed eventi simili che possono seriamente danneggiare il pubblico. Il 5G e le reti intelligenti vanno regolate. Mentre gli attacchi di terrore vengono influenzati dai media, dal rapido sviluppo del 5G non si parla. Ogni volta che viene menzionato viene mascherato come il miglioramento del 4G. Non è assolutamente questo il caso e sospetto che col tempo le persone se ne renderanno conto quando il danno sarà già avvenuto. Ecco perché c'è bisogno di diffonderlo rapidamente. Il 5G non è un nuovo argomento per me. Questo video è un modo veloce attraverso cui diffondere i miei pensieri di raccomandazione perché ne ho riconosciuto la gravità. Il 5G è una struttura effettiva che permette di collegare qualsiasi soggetto con qualsiasi altra cosa. Il termine ufficiale per questo è Internet delle cose e nonostante questo sia un nome noioso è un termine scelto volutamente per mettere ogni cosa sotto la sua insegna. Sia che si tratti di una lavatrice che di un jumbo jet. Se si ha l'abilità di collegarsi con un altro dispositivo da una località centrale che fa parte del sistema, questo sistema viene chiamato rete intelligente. La rete è ovviamente l'intero network non solo locale ma a livello mondiale. Questo è il grande piano a cui punta il 5G. Tom Wheeler della Commissione federale delle comunicazioni in America ha fatto un discorso dove ha messo in guardia su quanto sta per arrivare e perché dovremmo essere allarmati. Il grande cambiamento in gioco è che il 5G userà ulteriori bande di frequenza più alte che prima si pensava servissero per la telefonia a banda larga e altre applicazioni. I segnali con queste onde millimetriche hanno delle proprietà fisiche che oltre alle limitazioni hanno forza. Tendono a viaggiare molto meglio in linee diritte strette e non passano attraverso gli oggetti fisici ovviamente. Ma ingegneri brillanti hanno sviluppato nuove antenne capaci di puntare e amplificare i segnali. Per far funzionare questo 5G è necessario costruire delle infrastrutture molto intensive le quali richiederanno un massiccio dislocamento di piccoli ripetitori. Sono certo che questa azione ci porterà a delle cornucopie per un uso innovativo imprevisto in grado di generare decine di miliardi di dollari nell'attività economica. E questo è dannatamente importante perché significa che le compagnie americane saranno le prime a svilupparsi. E questo è il motivo per cui il 5G è di priorità nazionale che sta fuori dallo sviluppo tecnologico. Diversamente da altre nazioni non pensiamo di poter dedicare nei prossimi anni lo studio di cosa possa essere il 5G o di come opererà. Il futuro ha il suo modo di inventarsi da solo. Lasciare che gli innovatori sciolti è molto preferibile che attendere commissioni e regolazioni che possano definire il futuro. Non possiamo aspettare per gli standard. Stiamo già vedendo le industrie che hanno ingranato questa opportunità. La Verizon e la IT&T ci dicono che inizieranno ad installare il 5G di prova nel 2017 ed il primo dispiegamento commerciale di cui parlano è atteso per il 2020 e non abbiamo finito. Come parte dell'azione del 14 luglio avevamo programmato di chiedere l'apertura di bande ad alta frequenza. Molte bande di alta frequenza disponibili per il 5G fanno uso dei dispositivi satellitari, come alcune applicazioni del Dipartimento della Difesa e comunque la possibilità di utilizzatori per i satelliti futuri e della difesa. Questo significa condividere sia i satelliti che i wireless terrestri che diventano un problema molto rilevante per la banda di 28 GHz. Ma se qualcuno vi dice che conosce i dettagli di quello che può diventare il 5G? Fuggite via. Se qualcosa si può collegare sarà collegato. Centinaia di miliardi di microchip collegati nei prodotti dai tappi di bottiglia agli impianti idrici. Dobbiamo respingere la nozione che il 5G possa essere l'unica tutela in futuro delle aree urbane. La rivoluzione 5G raggiungerà tutti gli angoli della nostra nazione. Molte decisioni per ubicazione di antenne da parte delle amministrazioni locali hanno serrato la presa per la revisione delle applicazioni. Le amministrazioni locali americane giocheranno un ruolo importante nel determinare come porteremo a termine questa priorità nazionale. Potete essere sicuri solo di una cosa. La più grande applicazione di quello che è internet deve ancora essere immaginata. Decine di miliardi di dollari nell'attività e questo è maledettamente importante. Se pensate che questo sia in qualche modo limitato solo all'America non lo è. Questo è un problema a livello mondiale ed una rapida ricerca sul 5G vi mostrerà che quando viaggiate lungo un'autostrada col telefono qui nel Regno Unito il numero dei ripetitori sembra essere aumentato. Sia perché il 4G è stato distribuito o siamo consapevoli di più ripetitori, chi lo sa, ma una cosa è certa. Gli agricoltori di questa nazione sono stati pagati per permettere di disposizionare queste antenne nei loro campi e quello che hanno fatto non hanno realizzato è che una volta che le antenne sono là è comunque cosa fatta. Questo significa che se entra in gioco la rete 5G non solo metteranno altre antenne ma a quelle esistenti andranno ad aggiungere altri trasmettitori. Ecco perché si deve diffondere al mondo prima che le persone accettino ciecamente queste infrastrutture o peggio ancora siano svendute. Le possibilità di questa enorme raccolta di dati incredibili e se usata in modo negativo situazioni come questa possono accadere quando una compagnia segue i vostri spostamenti. È stato riportato apertamente anche se spesso contestato dalle società coinvolte che i segnali mobili e le radiazioni sono dannose per le persone. Ci sono articoli come questo per farvi ricordare di quello che il 5G è al momento. Si tratta di frequenze molto più forti rispetto alle precedenti ed inoltre sono aumentate attorno alle vostre case, nelle strade e nei paesi, costantemente per arrivare a collegare tutto quanto. C'è un documentario fantastico che chiunque dovrebbe vedere dal titolo Riprendi la tua energia. Mostra come dal 2008 alla popolazione americana sono stati distribuiti i telelettori per qualsiasi utilizzo e questo include entrare nelle abitazioni delle persone per installarli. Spiega perché questo passo è significativo agli occhi delle compagnie e delle amministrazioni coinvolte per permettere di portarle a termine. Nella descrizione trovate il link Take Back Your Power. Scaricate il documentario e ricaricatelo su YouTube. Qui un breve clip da Riprendi la tua energia. La definizione di rete intelligente è un sistema wireless che fondamentalmente trasforma ogni singolo apparecchio della vostra casa in una cosa equivalente al vostro trasmettitore cellulare. Ogni computer, ogni televisore, ogni forno, ogni condizionatore, ogni macchinetta del caffè, ogni stampante, ogni singolo apparecchio che avete nelle vostre abitazioni, alla fine avrà un'antenna inserita per questa rete intelligente che trasmetterà i vostri dati di utilizzo ai contatori intelligenti i quali si trovano all'esterno delle vostre case. In seguito trasmetteranno i vostri dati di utilizzo ad un altro ripetitore che una volta ricevuti i segnali dei vostri dati di utilizzo finiranno alle aziende col proposito del pagamento delle bollette. Non tutti i segnali riguarderanno i vostri utilizzi individuali. Ci saranno dei contatori congiunti che faranno rimbalzare i segnali di casa in casa con i vicini che raccoglieranno tutti questi dati di utilizzo e che a loro volta saranno inviati alle aziende. Quello che faranno è che alla fine tutto il sistema che trasmette tutti questi dati invierà un segnale in radiofrequenza tantissime volte al secondo e questo aumenterà l'esposizione delle radiazioni di radiofrequenza verso il possessore a livello esponenziale. Le mie conoscenze è che ho lavorato come investigatore di frodi per una compagnia di motorizzazione e adesso lavoro come ingegnere civile. Quindi sono interessato all'infrastruttura di questi elementi di telelettori. Guardate questa pubblicità. Questo è il gas. Il gas è un piccolo ragazzino birichino e prima che lo sappiate è in grado di bruciare un sacco di energia. E questo è Lecchi. E nessuno sa cosa veramente ha in mente ma insieme sono fuori controllo. Ecco perché entro il 2020 ogni caso in Inghilterra versa la giornata con i telelettori per trasformare l'acquisto e l'uso del vostro gas e dell'elettricità. Tutti i fornitori di energia installeranno questi telelettori senza costi aggiuntivi per farvi vedere esattamente quanta energia consumate in soldini. Il vostro fornitore si metterà in contatto per concordare un appuntamento col personale autorizzato per installare il vostro nuovo telelettore e mostrarvi come ottenere il massimo da questo. È tempo per tenere il gas e Lecchi sotto controllo. Per me questo suggerisce che per quanto concerne dove stanno andando le compagnie di energie non sanno quanto faranno pagare le persone ma con i telelettori lo faranno con accuratezza. Quando vedete notizie come questa pensate che non siano altro che storie per spaventarvi ma in realtà dietro a questo c'è la verità. Proprio adesso è stata avviata la campagna per far sì che la persona media qui nel Regno Unito creda che i telelettori per il gas e l'elettricità in molti casi debbano averli entro il 2020. Che succederà? È semplicemente per raccogliere dati ed una volta trascorso il tempo necessario si lamenteranno per le tariffe per soddisfare loro, non voi. Col tempo nuovamente le persone saranno colpite da queste aziende di energia quindi per quale motivo questa volta sarebbe differente? Pensateci, il governo ha richiesto di far installare questi telelettori entro il 2020. Ecco perché le persone avranno questi contatori senza costi che saranno installati gratuitamente ed in alcuni casi ci sarà qualche giorno nel weekend dove il gas e l'elettricità saranno gratuiti. Ci sarà molta energia gratis e sanno di poter contare molte volte su questo. Se per qualsiasi motivo non potete o non volete pagare potranno chiudere la vostra fornitura da remoto una volta installato nella rete intelligente. Ricordate che il gas e l'elettricità sono russi e che non hanno bisogno di inviare alcuna lettera ma quello che molti non sanno è che con più grande la casa i costruttori sono pagati dalla EON al British Gas per essere sicuri che vengono installati i telelettori in tutte le nuove abitazioni dove ricevono centinaia di sterline per ogni piano. Quanti soldi finiscono dentro a questo? Come ha detto Tom Wheeler si può fare un sacco di soldi. Un piccolo consiglio. Non siete obbligati ad accettare i telelettori a dispetto di qualsiasi tattica le compagnie energetiche cerchino di adottare. Basta dire solo no. Cercate di ricordare che i telelettori appartengono a loro. Loro si aspettano di ispezionare i telelettori ogni due anni per essere sicuri della loro sicurezza. Questa è un'altra delle loro tattiche per farvi credere che dovete aggiornare tutte le norme di sicurezza. In questo caso pagate a parte per l'ispezione e fatevi rilasciare il certificato di approvazione. Questo può essere usato contro queste tattiche, veramente. Tornando al 5G in generale, se il 5G è semplicemente l'aggiornamento standard senza alcuna connotazione negativa, per quale motivo cercano di mascherare i pali? Questo è un mascheramento della Mucklesfield che sembra un pino. Se andiamo a capoverde li fanno a forma di palma. Un'altra osservazione che voglio riferire è delle persone che hanno sofferto gli effetti delle onde elettromagnetiche di simili effetti. Uno show televisivo chiamato Barkle Saga aveva un personaggio che soffriva di questi effetti. Indipendentemente dalla trama e dalle domande che possono sorgere, si vestiva con una coperta di carta stagnola nel tentativo di schermarsi. Per me questo è un condizionamento di come le persone possono sentire veramente gli effetti del 5G. Quindi per tutti quelli che soffriranno di questo, saranno trascurati, senza trattamenti. Dobbiamo passare il messaggio a tutti quanti per far sì che le persone si rendano conto di questo da sole ed essere istruite su questo argomento prima che i ripetitori spuntino fuori attorno alle nostre case. Anche se questo è un piccolo passo di consapevolezza, io ho pubblicato un annuncio sul mio giornale locale che viene distribuito in 800 abitazioni nella mia area. Questo modello costa 100 stelline all'anno per una rivista gratuita mensile. Dal momento il tutto sembra sia solo una raccolta di dati, ma anche il denaro è un fattore principale. La mia decisione per il nuovo anno è di evitare coscientemente i pagamenti digitali e contactless perché con più usiamo questo tipo di pagamenti più finiamo dentro ad una società senza contanti. Pensate all'impatto che può avere la vostra azienda di prodotti e energie quando possono sbattervi fuori in un istante. I vostri soldi possono essere gestiti allo stesso modo, mentre la carta moneta è inutile e questo è un argomento completamente diverso. Come può gestirsi uno scienziatetto in una società senza denaro contante? I lavoratori autonomi che hanno a che fare col contante 9 volte su 10 per intescare un piccolo estero per loro stessi? In molti casi è quello di assicurarsi di far quadrare il belancio. Le aziende diventeranno sempre più ricche, mentre i poveri saranno sempre peggio. Gli attacchi terroristici servono per controllare le persone fisicamente e mentalmente. Il 5G e la rete intelligente servono per il controllo della popolazione in tutte le maniere durante la loro vita quotidiana. Un altro passo che ho fatto è di pagare a metà 225 di queste penne e di offrire ai colleghi, agli amici e familiari, addirittura lasciarle nei ristoranti. Se ne volete qualcuna, scrivetemi via email. Noi dobbiamo fare qualcosa perché Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.